Ma voi non sapete da quanto tempo io con incredibile ammirazione cercavo di trovare il coraggio fondamentalmente per attivare tutta la burocrazia per averla qui con noi e devo veramente ringraziare il suo management per la professionalità e come sempre quando lavori poi con le persone all'estero insomma con la precisione. Questa è una cosa incredibile veramente a cui bisognerebbe anche noi italiani spesso fare riferimento ma lei è italiana e lei soprattutto è la produttrice più richiesta del momento per quanto riguarda poi soprattutto principalmente la musica che viene passata qui dentro che noi ascoltiamo quindi tutta la fascia alternative il mondo indie e non solo perché poi avendo lavorato con Bjork avendo lavorato con Bonivera avendo lavorato con per esempio i Depeche Mode di Memento Mori insomma riesce anche a chiudere dei lavori molto 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 importanti. L'altra cosa pazzesca di oggi è che ha molto a che fare tra l'altro con la produzione perché è un pezzo fondamentalmente post prodotto è postum ed è post prodotto ed è soprattutto l'ultima cosa che molto probabilmente sentiremo almeno con tutti i due rimanenti Beatles in vita ovvero Now and Then l'ultima canzone ufficiale dei Beatles che alle ore 15 va in premiere mondiale. Quindi grazie al mondo per aver scelto le 15 quindi proprio durante il Silvestream proprio grazie per questo incredibile regalo. Inizialmente pensavo fosse alle 14 invece domani il video uscirà in premiere alle 14 mentre oggi alle 15 ci sarà la premiere della canzone. Spero ma non sono sicuro che Marta possa trattenersi con noi fino a fino a quell'ora ma abbiamo tanto di cui parlare con lei indipendentemente ovviamente dai Beatles e allora le chiedo di togliersi il mute dal microfono se per caso dovesse ancora mutato e dovesse essere ancora mutato. Allora diamo il benvenuto a Marta Salogni. Marta buongiorno. Grazie. Che bella che bella cosa averti qui guarda veramente sono felicissimo. Io sono contento di avere degli orgogli italiani qui da noi. Spesso sono stato accusato di non essere orgoglioso quando gli italiani trionfano fuori vedi maneskin ma non sono il mio genere non sono il mio mondo quindi non riesco ad essere altrettanto contento. Ma invece nel tuo caso e per esempio nel caso anche della scorsa settimana quando qui seduta in quel posto virtualmente c'era Marta Del Grandi che credo sia un artista che tu dovresti conoscere. Per me quelle sono proprio le eccellenze e credo che nel tuo caso c'è veramente da togliersi il cappello perché stai veramente living the dream. Cioè stai secondo me vivendo una parabola professionale pazzesca straordinaria grazie agli artisti con cui stai lavorando grazie al livello di come dire di commitment nei lavori che stai firmando e soprattutto perché partendo dall'Italia tra l'altro mi dicono che lì da dove vieni tu sta diluviando oggi. Questa è la notizia che mi davano. Com'è che si chiama il tuo comune? A Capriolo. Capriolo esattamente. Mi dicono che Capriolo oggi stia diluviando però immagino pure a Londra comunque ben o male. Anche a Londra ovviamente. Perfetto. Quindi niente di diverso. Non interrompiamo nessuna continuità. Però complimenti Marta veramente perché sei stata. Grazie a te. Intanto Marta è stata letta nel 2022 miglior produttrice, miglior producer, uomo o donna che sia, UK e questo credo che sia un conferimento veramente molto molto importante per te suppongo ma poi ne parleremo tra poco. Marta parte dall'Italia. In che anno ti sei trasferita a Londra? Nel 2010. E che tipo di esperienza avevi maturato con la produzione? Che livello di nerdismo soprattutto avevi ai tempi per decidere di provare a farlo poi fuori? Livello di nerdismo molto alto direi. Io ho iniziato più o meno verso i 15-16 anni ad interessarmi all'ingegneria del suono. Diciamo spontaneamente perché un giorno al magazzino 47 al centro sociale di Brescia ho incontrato per la prima volta un mixer, un banco di mixaggio, un vecchio Yamaha con 40 canali che mi è apparso come questo oggetto magico di cui non capivo come funzionasse e quindi un amico mi ha fatto conoscere Carlo dall'asta, il fonico residente allora del magazzino che mi ha spiegato che attraverso questo mixer si possono controllare i volumi che vengono dai microfoni del palco e quindi per me questo è stato molto affascinante il fatto di poter controllare, dipingere come uno scultore, modificare il suono che poi viene percepito dal pubblico e per cui modificare a livello emotivo la risposta. Per me è stata una metafora bellissima. Questo era il tuo punto di partenza. Quanto ci hai messo a capire il potenziale reale? Questo era tutto quello che ovviamente poteva succedere sulla carta. Poi con l'esperienza tu capisci invece quanto realmente tu possa fare fino a metterci poi la tua firma e capire esattamente cosa tu chiedi a quel banco, che cosa chiedi al mixer. Quanto ci hai messo invece a perfezionare e a creare un tuo stile produttivo? È un percorso professionale ed anche interiore perché è come imparare una nuova lingua e la padronanza viene dopo un po' di tempo come sai per esempio come con l'inglese. Prima lo si impara sui libri, poi si cominciano a leggere, diciamo, dei libri più interessanti, dei libri che magari piacciono a noi. Cominciamo a costruire all'interno di noi stessi dei gusti che però hanno bisogno del tempo per maturare e anche per capire quello in cui noi siamo naturalmente portati. Quindi ci vogliono degli anni. Io adesso mi sento, diciamo, al cento per cento padrona di quello che faccio a livello sonoro e diventa naturale il fatto che quello su cui lavoriamo poi abbia questo suono infuso da noi, da tutte le esperienze che abbiamo vissuto e da tutte le preferenze che abbiamo fatto. Nelle produzioni di oggi c'è un forte ritorno, in realtà non l'abbiamo quasi mai abbandonati se non forse in una parentesi degli anni 90, però c'è un ritorno agli anni 80 e quindi ha un certo tipo di lash nel suono, ha un certo tipo di reverberi, ha un certo tipo anche di delay, di synth FM, di batterie, di suoni di batteria, eccetera. Sono delle caratteristiche quasi in risposta netta a un altro genere, a un altro tipo di rock col quale noi siamo cresciuti, che è stato quello degli anni 90. Gli anni 80 sono stati caratterizzati da un certo suono di rullante, di batteria, no? Il famoso suono uscito involontariamente in cabina di regia tra Peter Gabriel e Phil Collins in quell'occasione con il talk pack e poi preso e reso il trademark sound degli anni 80. Poi gli anni 90 sono stati gli anni dove rullante e batteria sono tornati verso la verità. Per quanto poi comunque Brendan O'Brien e Andy Wallace usassero dei trucchi come i sample, no? Sul rullante soprattutto. Quindi un qualcosa di, sempre di naturale, però di caratterizzante. Però si tornava a un suono degli strumenti così come erano, cioè come se entri in una sala o se vedi una band suonare, i suoni sono esattamente quelli, mentre gli 80 erano molto artificiali. Oggi hai un po' di entrambi i mondi, ma qual è il suono di questi anni, di questi anni, diciamo, 20? Io penso che adesso soprattutto con band molto giovani e i generi sono molto, diciamo, si sporcano a vicenda. Questo è molto bello. Io non credo fortemente nei generi musicali, anzi è molto più interessante quando i generi si mescolano. E quindi anche i suoni dei generi, come hai detto tu, sia da quelli naturali, high fidelity, a quelli più sintetizzati, si mescolano anche quello e creano questo mix che è molto unico. Questo credo che sia il suono contemporaneo delle band nuove. Si sta cercando di tornare alla dinamica come risposta alle penalizzanti, diciamo, loudness war a cui si è assistito dalla fine degli anni 90 fino praticamente ancora adesso, perché si continua a masterizzare, soprattutto in alcuni generi musicali, annullando, quasi inibendo la dinamica. Tu, per esempio, pretendi che poi il mastering possa essere in una certa maniera, oppure soffri quando vedi che il tuo mix viene, come dire, schiacciato dal mastering? Allora, a me personalmente piacciono molto dei mix che hanno dinamica, ma che siano anche presenti. E grazie alle nuove tecnologie si possono avere tutti e due questi lati della medaglia. Sì, prima magari compressione era un po' troppo, diciamo, a livelli di... schiacciava, diciamo, le tracce. Adesso ci sono tante compressioni, soprattutto multibanda, che permettono la coesistenza di dinamica e potenza a livello di presenza. Quindi anche qui io direi che Loudness War esiste ancora, soprattutto in alcuni generi, ma diciamo che i risultati poco musicali adesso non ce ne sono più come c'erano prima, anzi. Anche i vari Rick Rubin sono poi tornati sui propri passi, riadottando degli stili molto più, molto più naturali. Questo lo si sente, per esempio, anche se ascolti, per esempio, un disco di A Chiran prodotto da lui, quindi anche in un campo pop dove ci si può aspettare maggior compressione, maggior, appunto, volume. C'è più rispetto, è vero, si lavora sul volume, ma si lavora allo stesso tempo con, come dicevi tu, sul rispetto, un maggiore rispetto per quanto riguarda la dinamica. Trovarsi a Londra e vivere in una città che, attraverso comunque la scena di Dublino, la scena, per esempio, di Bristol, la stessa scena di Londra, la scena di Manchester, continua a proiettare musica, a gettare, diciamo, nelle grandi tasche anche delle produzioni, degli studi artisti continuamente. Quanto ti facilita il lavoro e quanto ti permette oggi anche di poter selezionare l'artista con cui lavorare? Allora, i gruppi della Gran Bretagna sono molto prolifici. Ci sono tanti gruppi molto giovani anche che adesso, non soltanto da Londra, come detto tu, Manchester, Liverpool, Cardiff, Scotland, ce ne sono tanti di gruppi, c'è molto fermento a livello artistico e questo vuol dire che io mi ritengo molto fortunata. Tante volte andando a un concerto vedo una band che mi piace molto e quindi ci conosciamo e poi andiamo a lavorare insieme o viceversa vengo approcciata da band e ci scambiamo provini e poi si fa un disco insieme. C'è molta musica adesso che davvero è stupenda ed è molto interessante a livello di sonorità nuove. Quindi si può dire che in Inghilterra non ci sia in realtà una crisi dei live che sono, per esempio, da noi sono cannibalizzati dalle tribute band. Da noi è difficile trovare, quasi impossibile trovare a livello anche di club, anzi forse soprattutto di club, trovare artisti che riescono a portare il proprio repertorio. Non c'è assolutamente interesse nei confronti del repertorio originale e quindi l'attività live si è contratta, è poca, è piccola, è ridotta e soprattutto è totalmente monopolio delle tribute band, neanche delle cover band. Facendo così si fa fatica ovviamente ad uscire, le produzioni da noi sono in tutta altra faccenda. Mi chiedo come ha fatto l'Inghilterra a preservarsi invece da una deriva simile? Credo che sia soltanto il fatto di continuare a suonare, continuare a suonare nonostante non ci siano concerti, nonostante le venue anche qua, tante hanno chiuso sia prima sia durante la pandemia sia adesso. Stavamo parlando della George Tavern per esempio prima, un posto molto importante come punto di riferimento delle band londinesi soprattutto. La gentrificazione qua sta facendo molto, purtroppo, rovinando quello che è le venue grassroots, specialmente quelle indipendenti, è molto difficile sopravvivere per loro. Per quanto riguarda i musicisti però c'è sempre questa fame di suonare, quindi finché ci sarà una venue, finché ci sarà uno spazio, una living room, ci saranno artisti, credo. Una cosa particolare è quanto si siano per esempio in Italia staccati i giovani dall'attività musicale. L'attività musicale è diventata quasi una roba da cameretta, più da youtuber, quindi da performante, più forse da funamboli, cioè riesco a suonare questa cosa qui in tre secondinetti con la benda negli occhi e quattro dita steccate. Oppure si suona ma si cerca di fare dei progetti dove in realtà non ci sia un commitment reale. E ti ritrovi fondamentalmente con le band reali, quelle di quattro, cinque persone, con un'età media di quaranta, spesso anche cinquant'anni. E anche qui c'è una differenza abissale con quello che succede lì. Perché culturalmente c'è un legame probabilmente più grande con la musica da parte dell'Inghilterra? E ti chiedo se pensi che sia questa la ragione, standoci, o se ci siano altre questioni. Sai, io credo che forse ci servano più role models. I role models nel senso di vedere qualcuno sul palco e voler essere come loro. Perché quello credo che sia la scintilla che spinge tanti giovani all'inizio a dire prendo una chitarra in mano, prendo un sintetizzatore in mano. E è quello che serve. Come hai detto tu, con i live, ovviamente vedere una cover band non è così tanta di ispirazione che vedere una band con un repertorio personale unico e vederla sul palco. Quindi credo che servano più role model, servano spazi, diciamo, santuari della musica dove le persone, i giovani, soprattutto, vengono presi sul serio. Perché è una professione ed è tante volte viene giudicata come un hobby. Ma non lo è. Perché musica è un'arte e tutto quello che la riguarda è un'arte. Ed è sacra come arte. Per me non c'è dubbio. È anche per questo che mi sono trasferita qui a Londra dall'Italia. Per la mancazza purtroppo di studi di registrazione che erano quelli in cui io volevo studiare. Non ce n'erano molti per niente da dove vengo io. Quindi per me è stata una questione di sopravvivenza trasferirmi a Londra perché volevo che non ci fosse dubbio anche nel fatto di quanto io volessi imparare, volessi capire il più possibile sulla musica, sull'ingegneria. e spero un giorno di riuscire a in qualche modo creare questi spazi anche in Italia perché sono importanti. Tu hai capito quando una band ti chiama, quando un artista ti chiama, cosa cerca esattamente da te come produttrice? È diverso. Ogni volta è diverso. Per me è una questione di comunicazione. Quindi la prima cosa che si fa durante il primo meeting è capire quali sono le aspettative, qual è la visione dietro alle canzoni o al disco che l'artista mi sta chiedendo di produrre. E c'è un tipo di caratteristica però del tuo modo di lavorare che evidentemente è quella che cercano. Hai capito quale possa essere il tuo trademark? Il mio trademark? È una domanda difficile da rispondere per me, forse è meglio chiedere agli altri artisti perché io cerco di mettere il mio ego davvero nel cassetto e non aprirlo perché quando si produce un disco non è su di me che io lavoro. Io lavoro sull'artista, quindi il suono mio è il suono dell'artista. Diventiamo io, divento parte dell'artista e del loro suono. Non voglio che il disco si senta come il disco prodotto da Marta Salogni. Voglio che il disco si senta come il disco di artista, tal dei tali o del gruppo. Quello che io porto sul tavolo è l'apertura totale, empatia, voglia di seguire il disco dall'inizio, proprio dall'inizio alla fine ed esserci per l'artista o per la band e sperimentare, creare questi spazi di fiducia all'interno dello studio che è una lente di ingrandimento che tante volte è difficile sentirsi se stessi all'interno di questa lente di ingrandimento. Quindi è quello che io voglio creare sia a livello emotivo sia a livello tecnico perché c'è tanto studio a livello tecnico per poter tradurre quello che è la visione dell'artista in questo disco che è una forma tangibile di un'idea. Quindi che un artista sia o non sia capace di comunicare a livello tecnico quello che vuole non è importante, ma per me è importante sapere quello che loro vogliono dire a livello tecnico. Quindi questa traduzione è quello che porto sul tavolo, credo. È una traduzione che ho imparato lavorando a molti progetti, molti progetti che mi hanno visto come ruolo da assistente all'inizio, poi da ingegnere, poi da mixer, poi da producer. Quindi cerco di mettermi, cerco di capire lo stato d'animo di tutti quelli coinvolti nella sessione per riuscire a creare questo ambiente. Preferisci lavorare artisti singoli o band? Dipende, tutti e due. Guarda, sono delle dinamiche che sono diverse, però una band, con una band lavori con una persona che è molti sfaccettata, nel senso che alla fine una band è un'entità unica. Invece un artista singola o singolo, diciamo, a volte quando magari c'è da costruire una band attorno a questa artista, ci sono delle decisioni artistiche molto diverse. però tutte e due le esperienze, insomma, si equivalgono dal punto di vista dell'output creativo. Qual è il tuo approccio? Cerchi di far lavorare la band insieme, quindi in un live take, tutti insieme, per avere una base su cui puoi lavorare con l'overdubbing, quindi con le sovrincisioni, oppure lavori già dall'inizio, insomma, fai, non so, la ritmica e poi lavori sugli altri strumenti. Come funziona il tuo lavoro? Un lavoro a mattoncini oppure un lavoro già organico? Diciamo un po' di tutti e due. Allora, all'inizio si fa uno sketch di quello che sarà il pezzo, la canzone, se possibile. Io metto microfoni per tutti gli artisti della band e facciamo un live take. Live take anche per capire, sai, la struttura della canzone, il tempo, i diversi passaggi. Quindi prima si fa uno sketch, una bozza. E da quella bozza magari si tende a tenere batterie basso, perché hanno una, insieme, hanno una ritmica che io credo sia, sia meglio catturarle insieme, perché separatamente... Ops, è un problema di connessione in questo momento, abbiamo perso Marta, speriamo di recuperarla. Quanto prima, proprio sul più bello, Allora, vediamo se riesce a risintonizzarsi con noi. Aspetta che sta tornando. Sì, ti sento adesso e ti vedo anche. Ops, sono scomparsa. Dov'è che mi hai perso? Ti ho perso praticamente alla fine del discorso del basso e della batteria, che ovviamente suonano in dinamica insieme e quindi tendi a tenerli insieme. Dopo di quello, dopo che abbiamo stabilito, diciamo, le fondamenta di questo palazzo con batteria e basso, si va a ricostruire tutto il resto, i mattoncini che hai detto tu, chitarre, pianoforti vari, sintetizzatori, violini, trombe, qualsiasi strumento che decidiamo stia nella canzone, si va a costruire finché si arriva alle voci. Io le voci di solito faccio una bozza delle voci temporanee, una bozza temporanea, che tenga insieme la canzone. Una voce guida. Sì, una voce guida, così tutti abbiamo un punto di riferimento. Poi alla fine, tante volte è la preferenza anche degli artisti, alla fine mettere la voce quando la canzone, tutti gli altri strumenti sono stati registrati, così che anche la voce possa proiettare e possa avere quel significato, quel supporto di tutto il resto. Quanto consigli gli strumenti da usare? Per esempio, fai una fotografia inizialmente vedendo quale tipo di chitarra o di amplificatori hanno portato, scelto gli artisti, noi mettiamo che sia una band, e cerchi di fargli fare un upgrade a tutti i singoli strumenti, quindi consigliargli, non so, una chitarra che possa avere un suono più adatto, idoneo a quel brano, anche se non è esattamente una loro chitarra, in dotazione, oppure la stessa cosa con un amplificatore, il tipo, per esempio, di microfoni da usare. Quanto spingi sulla tua consapevolezza e conoscenza, ovviamente, di quali strumenti tirano fuori un suono migliore che sia più funzionale per il tuo lavoro finale? Allora, io cerco sempre di iniziare dagli strumenti che la band si porta, perché la familiarità di un musicista con il proprio strumento è molto importante. Quindi non è questione della qualità dello strumento tante volte, è la questione della familiarità, perché puoi mettere in mano una chitarra da 6, 7, 8 mila pound a un chitarrista, ma non la suonerà mai come suona la propria chitarra, che magari sono 200 euro di chitarra. Per me è importante la performance, quindi la performance viene per prima. Se poi, durante la registrazione, si sente che la chitarra, magari per questione di equalizzazione dell'amplificatore o dell'amplificatore valvolare, invece che un altro amplificatore, non ci sta bene, allora si comincia l'esplorazione per diverse opzioni. Però sì, credo che uno degli errori più grandi sia quello di stravolgere la sessione portando troppi strumenti e perdersi in questi veicoli ciechi che non sono creativi, sono fini a se stessi. Di quello io non sono molto fan, perché quando si è sulla cresta dell'onda creativa poi bisogna mantenerla, quella passione, altrimenti se si va a impelagarsi in questione di forse marginalmente questa chitarra è migliore di questa, poi la scintilla si spegne. E si ritarda anche il processo, si rischia di perdere molto tempo proprio nella selezione stessa. Però per esempio per fare il suono di una chitarra, quanto tempo spendi? Perché quello poi diventa un suono essenziale, anche il suono della batteria, il tipo di sala, di ripresa, insomma la microfonazione, sono cose che poi determinano il suono, impattano, ma sono time demanding, cioè serve tempo poi per poterlo fare. Allora io cerco sempre di minimizzare il tempo di attesa della band allo studio senza registrare, per mantenere diciamo le fresh years e le fresh experience. Quindi cerco sempre di montare il più possibile prima che tutti gli altri entrino in studio. Però richiede tanto tempo la preparazione. Quindi il primo giorno della registrazione di un disco è quasi sempre dedicato ai microfoni, alla posizione della batteria, alla posizione degli amplificatori, alla posizione di tutti, al fatto che tutti si sentano bene in cuffia, al fatto che tutti i microfoni arrivino bene in banco. C'è tanta preparazione, ma questa è una cosa dei giorni più importanti, perché dà il suono a quello che sarà poi il disco. La batteria per esempio richiede molti microfoni, almeno io preferisco registrare una batteria con una range di microfoni che varia dai 4 ai 10, 12, 13, dipende dalla stanza. Una chitarra elettrica, a me piace molto microfonare una chitarra che vada a due amplificatori, poi colare i microfoni. A livello di strumenti acustici, anche quello c'è molto da, c'è molto cui lavorare. Se per esempio si registra un quartetto d'archi, si usa la sala così com'è o si mettono dei buffer che sono... Dei pannelli. Pannelli, esatto, per limitare le rifrazioni del suono. La scelta dei microfoni per sé è una cosa a cui io spendo molto tempo. Posso chiedere se lavori su riverberazioni naturali della stanza o se lavori, per esempio Andy Wallace, storico produttore degli anni 90 principalmente, anche degli anni 2000, ma il grosso diciamo che lo ha fatto, prendete per esempio, non so, l'Alleluia di Buckley, ne avevamo già parlato una volta anche in live, l'Alleluia di Buckley ha questa incredibile reverberazione, ma fondamentalmente della stanza, dello studio non c'è quasi niente. È lui che usa tre riverberi diversi, uno molto corto, uno medio, uno estremamente lungo e simula praticamente la stanza e con un particolare pampottaggio, che vuol dire dove vai a posizionare nello spettro sonoro lo strumento, apre tutto e quindi diventa praticamente una chitarra stereo gigantesca quella di Buckley dell'Alleluia. Ma l'idea è che invece sia assolutamente naturale, che sia la stanza. Un altro, beh ce ne sono tanti che hanno lavorato in questa maniera. Tu come preferisci approcciare il lavoro? Come suona la stanza? Reale? Oppure poi correggi? Guarda, per esempio, ho prodotto un disco quest'estate a luglio in Grecia, dove io e l'artista siamo stati per un mese in questo studio di registrazione in una vecchia villa che aveva sì una sala abbastanza dead come sonorità per quanto riguarda la sala di regia, dove si poteva registrare. Però la sala che a me, di cui io mi sono innamorata, era la sala principale, il salotto, che aveva dei soffitti altissimi, dei soffitti in legno intarsiati, il pavimento in marmo e delle finestre che davano sul porto. In cima questo anfiteatro di cittadella che per me era un'ispirazione fantastica. questa stanza però non aveva nessun pannello sonoro per attutire quello che sono quello che era il riverbero naturale e lì c'è da fare una, c'è da prendere una decisione. Il disco sonerà come questa stanza oppure no? E cosa avete deciso? Abbiamo deciso di sì, perché era una stanza dell'acustica magnifica. il soffitto intarsiato voleva dire che le riflessioni non cadevano con quel ping che è un risultato di stanza che sono perfettamente simmetriche. Quindi questa simmetria ha dato questa dispersione del suono molto unica e abbiamo registrato batterie, chitarre con molti microfonaggio, quindi con dei microfoni che puntavano al soffitto, dei microfoni che puntavano in posti totalmente diversi dalla fonte sonora e perché questa sala non aveva né aria condizionata né in sonorizzazione abbiamo presto scoperto che c'erano anche delle altre questioni da tenere in considerazione quanto i suoni della giornata di altre persone della loro vita e dei grilli e dei grilli che erano molto 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 sonori quindi abbiamo deciso di registrare durante la notte per un mese abbiamo registrato abbiamo cambiato i nostri orologi interni abbiamo registrato dalle nove di sera alle sette di mattina quindi non soltanto lo spazio ma anche il tempo beh ma anche lavorare alla notte è completamente diverso proprio come fascino anche come soprattutto se poi hai delle vetrate se hai poi un affaccio esatto sì sai come credo che Spirito Viden dei Talk Talk sia stata registrata quasi in completa oscurità e io è uno dei miei dischi preferiti e sono anche nostri non ho mai avuto un'esperienza così vicina a quella di Spirito Viden e ho capito la differenza del non è soltanto psychogeography sai è anche non so come si chiami l'equivalente in psycho time of the day quindi registrare di notte ha informato quella che è quello che è il sentimento anche di certe canzoni molto molto hushed molto sottovoce ma ci sono anche delle canzoni che abbiamo registrato durante il giorno specialmente delle batterie dove abbiamo dovuto chiudere tutte le finestre il sole coccente ha fatto che c'erano 40 gradi in sala e la batterista Stella poverina stava grondando quella quell'urgenza di finire il take perché alla fine non c'è più aree nella stanza anche quello va quello si sente certo è una sorta di la musica non è molto diversa essendo una forma d'arte anche da come viene fatto un film un film vive delle stesse suggestioni la notte il giorno la temperatura addosso lo stress quanta catarsi si riesca poi a creare dentro l'attore e pensate quello che fa poi il regista quando insieme alla montatrice o al montatore e poi alla color correction riesce poi a cambiare tutto ed è molto simile al lavoro che viene fatto il montatore chi fa la color correction quello che voi vedete è stato lavorato un film viene girato in maniera molto neutra quindi senza caratterizzazioni non c'è quasi contrasto se voi vedete la pellicola appena girata è quasi brutto da vedere perché poi si va ad inserire tutta una serie di livelli di correzione che è proprio l'imprinting che vai a dare e quindi è un lavoro magico anche quello lì ed è molto simile questi lavori tecnici di cui si lavora si parla molto poco come il lavoro di Marta sono l'essenza un produttore determina il successo di un disco o ne determina l'insuccesso ci sono stati mi ricordo Ed Stasium che lavorò con i Ramones e stravolse il suono dei Ramones che non era più il suono dei Ramones ma era un suono anni 80 e non faceva più parte di quel loro mondo eppure erano sempre la stessa band quindi tutto ovviamente cambia prendete i Pearl Jam di Rick Parasher di Ten prendete i Pearl Jam di Brandon O'Brien che suonano completamente diversi e si vede che c'è un produttore che riesce a comprendere la loro la loro identità io mi cagherei sotto a lavorare con i Depeche Mode per dirne per dirne una perché preferirei invece lavorare una materia più grezza cioè degli artisti in formazione che non degli artisti così importanti magari con dischi che sono anche determinanti proprio per il proseguo della loro carriera è una mia preoccupazione o è stata anche una tua preoccupazione e come si comportano loro nei confronti di diciamo di un produttore che in quel caso è lui l'emergente diciamo è lui quello che sta uscendo fuori guarda i Depeche Martin e Dave sono delle persone stupende a livello umano e quello che a me ha rimasto nel cuore tantissimo è la loro voglia di sperimentare non hanno paura di di tuffarsi in un'idea per quanto nuova che sia anzi meglio questa libertà questa davvero questa libertà assoluta di di sperimentare insieme è stata fantastica e il loro il loro incoraggiamento nel vederli così così ispirati in studio ha ispirato moltissimo anche a me quindi è stata un'ispirazione diciamo in cui ci nutrivamo a vicenda mi hanno fatto sentire subito a mio agio ovviamente sono una band che io ho ascoltato da quando sono piccola loro avevano una carriera già quando io stavo nascendo quindi c'è tanta c'è tanta storia da tenere in considerazione c'è un tragitto un percorso di cui io sono molto sono molto consapevole quindi il mio lavoro con loro è stato essere consapevole di questa della loro storia e costruire qualcosa di nuovo con loro che si ovviamente si basi su tutto il loro tragitto ma che sia nuovo anche a livello di sonorità a livello di profondità ma che mantenga il cuore ti posso chiedere una cosa quando arriva un artista una band con tanta discografia dietro è chiaro che una discografia sarà fatta di momenti migliori momenti peggiori di apici e anche di inciampi tu riascolti tutto per capire l'essenza cercare di comprendere con questa band funziona questa roba qui poi ne possiamo fare magari una versione evoluta una versione nuova ma evitare alcune cose dove probabilmente non si esprimono meglio perché magari hai sentito sei giudicante anche se magari non glielo dici nei confronti dell'esame della discografia dell'artista oppure te ne freghi e vai dritta come un treno guarda io non voglio essere condizionata da quello che è il passato di un gruppo di un artista non voglio essere troppo condizionata sta a me studiare quelli che sono stati i dischi precedenti ma non a livello così minuzioso da poi prepararmi già un outcome di quello che sarà al disco che andremo a fare no però capire i punti di forza questo lo fai? i punti di forza sono sono lampanti tante volte giusto nel senso soprattutto come hai detto tu di gruppi che hanno un passato importante anche non sapendo molto della loro discografia sicuramente due o tre canzoni li puoi nominare avendolo sentiti dalla radio ma c'è anche comunque il rispetto di quello che è il volere dell'artista perché magari l'artista ti dice io voglio voglio buttare nel cestino tutto quello che è stato il mio passato voglio iniziare qualcosa di nuovo e allora anche lì diciamo lo studio della discografia deve venire diventa importante per sapere quello che vogliono dire perché alla fine la loro storia dischi di un gruppo di quella di quella longevità sono davvero mattoni che vanno a costituire questo palazzo di cui devi conoscere nelle stanze perché altrimenti come fai però c'è anche quell'aspetto di rimanere naive perché altrimenti non c'è più la magia quindi devi non devi sentirti troppo condizionato sul passato devi esserne consapevole sì poi c'è deve esserci questa comunicazione questa apertura mentale l'apertura di tutti i canali di comunicazione è molto molto importante così che poi si va a capire se siamo sulla stessa pagina o no ti faccio una domanda perché poi non so se tu vorrai restare con noi o meno siamo a 5 minuti dell'anteprima dei Beatles ma questa domanda voglio fartela e non so se tu poi rimarrai con noi il disco un disco prodotto meglio è quello in cui non ti accorgi del lavoro del produttore o ti accorgi del lavoro del produttore allora come ho detto per me il lavoro del produttore è quello di trovare l'identità l'identità con l'al cuore dell'artista o della band del loro suono è il lavoro del produttore di far suonare una band o un artista come loro dovrebbero suonare per in un mondo in un mondo diciamo ideale e quindi il fatto che io ci sia o che non ci sia non deve non deve essere una presenza ingombrante ma il fatto che io non ci sia si dovrebbe sentire quindi la presenza non è quella che cerco e io cerco cerco la realizzazione loro e mia attraverso la loro realizzazione mi sento realizzata attraverso il lavoro che poi ci sediamo alla fine della registrazione lo ascoltiamo ci guardiamo diciamo sì questo suono che questo disco doveva avere l'abbiamo realizzato conosci il metodo lavorativo di Dan Carey e della sua Speedy Wonderground sai che lui ha un dogma se non lo sai ti dico come lavora lui ha un dogma è molto unico ed è una cosa molto affascinante perché vedi attraverso proprio queste queste figure anche grazie al lavoro che tu stai facendo si ritorna a mettere l'accento proprio su questo tipo di lavoro su questa professionalità che secondo me è fondamentale spesso si perde sembra quasi più un'attenzione che hanno i nerd verso la produzione invece la produzione è essendo un lavoro artistico è tanto importante quanto quello che poi ascoltate in un disco e quello che è frutto della creazione ma va di pari passo è come togliere George Martin ai Beatles per esempio e pretendere che possano essere la stessa cosa non sarebbero mai stati ovviamente la stessa cosa lui ha tutta una serie di come Lars von Trier diciamo ha un dogma quindi il pezzo lui lavora primariamente 12 pollici 10 pollici quindi deve essere fatto una stampa A e B lato B deve essere il dub quindi la versione non vocale del lato A c'è un solo giorno per registrarla devono essere infatti al massimo 3 take quindi il pezzo deve uscire fuori in 3 take suonati rigorosamente dal vivo l'unica cosa che si può registrare dopo è la voce e tra questi c'è uno strumento un particolare sintetizzatore che si chiama Swarmatron che lui ha e che va utilizzato in tutti i pezzi dopodiché il giorno dopo è dedicato al missaggio e per la sera del giorno dopo il disco deve essere pubblicato perché non ci deve essere tempo per nessuno per ripensamenti il disco deve essere fatto e buttato fuori così proprio per catturare quel momento ecco questo tipo di operazioni secondo me sono da un lato divertenti da raccontare però sicuramente raccontano un raccontano quanto importante sia il vostro il vostro lavoro e quanto si possa tornare a creare anche delle scene musicali legate ad etichette legate a un tipo di produzione legate a un suono a un marchio di fabbrica e e questo secondo me è molto eccitante forse è mancato per un po' di tempo nel mondo della musica secondo te oppure c'è sempre stato ma non ce ne siamo accorti credo che sia un'idea stupenda quella di Dan io lo rispetto molto come produttore e sai è un metodo un modus operandi che può funzionare con alcune band e portare dei risultati che in altre situazioni di studio magari non non verrebbero fuori quindi sai anche la mentalità del dell'essere presente in studio di sapere che you have one chance or two or three but no more e e sapere che devi metterci tutto tutto quello che hai è come registrare su su nastro e sapere che ah scusami ovviamente è tutto registrato su nastro ecco vediamo quindi sapere che se tu sbagli poi tutti devono ricominciare non è soltanto tu è come lavorare in un'orchestra e lì sai sei sei presente nel momento e devi dare tutto quello che hai per risultato che poi si spera sia ottimo è un bel metodo per portare tutti per concentrare tutti in una riportare la mente di tutti in una stanza che è quello che adesso diciamo nell'età moderna è la cosa più difficile in studio sentirsi tutti parte della stessa dello stesso momento e dello stesso progetto al cento per cento quindi questo è un è un metodo molto challenging sicuramente challenging sì ma penso che è anche molto valevole per questi per ottenere questi risultati poi ovviamente io credo che il il workflow di di un di un produsero non deve mai andare poi contro quello che sono i bisogni di una band ovviamente sono sicura che anche Dan se ci sono cinque take da fare anche lui non direbbe mai no ne abbiamo fatti tre ovviamente diciamo avere delle limitazioni aiuta tanto in studio avere delle limitazioni sapendo che forse sai fare 10 15 20 take va contro quello che è la performance di questo però ci sono poi delle eccezioni alla regola in cui magari un un artista preferisce registrare tantissimi take per poi arrivare a quella che è l'essenza della canzone e anche lì bisogna essere aperti a quello che è il modus operandi dell'artista però avere delle limitazioni prima di entrare in studio comunque conoscere quello che è quella che è la retta via in questo labirinto tante volte aiuta si parla di intelligenza artificiale nel caso per esempio anche la stessa now and then però in realtà non è proprio un'intelligenza artificiale cioè è un qualcosa è semplicemente una tecnologia completamente gestita da umani che sanno esattamente che cosa rimuovere o che cosa enfatizzare o che cosa recuperare nel caso del pezzo dei Beatles credo che sia stato un utilizzo se proprio vogliamo definirla di intelligenza artificiale fondamentale perché ti dà la possibilità di viverti un qualcosa che altrimenti non avresti potuto avere c'è un timore tra di voi così come a Hollywood per esempio tra autori e attori sul fatto che l'intelligenza artificiale possa arrivare in qualche maniera a sostituire il vostro lavoro non credo che sostituirà mai il lavoro di una persona perché la differenza principale dell'intelligenza artificiale sta proprio nel nome ma e questa è la mia visione diciamo io mi aspetto grandi cose dall'intelligenza artificiale ma nel campo creativo diciamo nel campo in cui estende l'abilità nostra di ottenere risultati che non avremmo altrimenti potuto ottenere è un artista che si occupa molto bene di questo di questa visione per me è Holly Herndon con lei abbiamo fatto ho mixato un disco ed è stato un disco in cui l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che lei ha programmato è stato centrale e nello stesso messaggio che lei ha rilasciato quando è uscito il primo singolo lei ha detto con con l'intelligenza artificiale si può arrivare a risultati che soltanto con le nostre menti e mani non si potrebbero raggiungere ma dipende da chi la usa e come perché si possono anche creare dei mostri ma questo è vero di tutta la tecnologia di tutte le nuove invenzioni sta a noi e non è l'intelligenza artificiale che mi fa paura mi fa paura mi fanno paura le persone che non la usano in modo proprio nel 2023 dove uno dei timori più grandi è il fatto che chiunque abbia un computer per fare musica e chiunque possa produrre un pezzo e in realtà questo ha avuto un forte impatto per esempio nel nostro paese qui in Italia chiudendo di fatto molti studi rendendoli obsoleti rendendoli inutili perché si lavora in the box ovvero nel computer si mixa tutto direttamente dentro il computer senza ricorrere all'outboard spiego per loro l'outboard è quello che vedete un mixer è un outboard quel registratore che lei ha lì è un outboard un multi-effetto è un outboard senza ricorrere appunto a outboard esterni che normalmente ovviamente sono molto costosi vedo anche un Davoli lì che non credo quell'amplificatore costi pochissimo però si risparmia si danno più possibilità alle persone è vero che conterà sempre il manico però tu oggi nel 2023 hai ancora il tuo lavoro ben solido salvo e anzi i dischi si continuano a fare negli studi di registrazione quanto quanto conta la cura del prodotto alla sorgente voglio fare un disco per fare un disco non mi basta farlo uscire mixato in the box ma si investe per cercare di farlo uscire nella maniera migliore e forse questa è la differenza di cura che c'è tra il nostro paese dove ormai si fa quasi tutto purtroppo in the box e gli studi restano una sorta di antiquariato buono per le orchestre soprattutto quelli che hanno delle sale di ripresa molto grandi e invece per esempio in Inghilterra dove si continua ad andare in studio anche la lezione di Billie Eilish è la stessa si lavora in the box fino a un certo punto poi il mixaggio lo si va a fare nello studio io sono sempre stata affascinata da studi di registrazione sono la ragione per la quale ho iniziato il mio percorso nella musica quindi ovviamente la mia opinione è di parte dal punto di vista dell'ispirazione che una stanza mi dà e degli strumenti che ci sono all'interno di questa stanza quanti lavori vedi fare scusami se ti ho interrotto quanti lavori vedi fare chiusi in the box che finiscono poi sugli scaffali non saprei quantificare però tanti tanti lavori per esempio se devo soltanto mixare tante volte mi arrivano delle multitracce che sono state registrate con quello con i microfoni che ci si poteva permettere che ci si poteva permettersi e sono stati fatti tutti processati in the box finché poi arrivano a me io ho un banco esatto io parlo del mix di quanto sia importante poi traslare il tutto in fase di mix poi dentro un qualcosa che tolga quel senso di povertà cioè che non sia sufficiente per me è importante restituire un senso di un senso diciamo di presenza a volte analogica su quando il materiale è stato prettamente registrato con con microfoni sì però poi processato con software con i cue in the box perché restituisce all'audio quella presenza quella presenza non in un non in un vacuum che per me è molto importante per per riuscire a connettere con la musica è per questo che io la prima cosa che ho comprato quando ho costruito questo studio dove sono ora è stato il banco e il banco che banco hai sei un SSL sei un sei in IV tu secondo me sono uno Studer sei Studer quindi ancora 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 diciamo più vintage in un certo senso forse è uno Studer sì un prototipo degli anni 70 che ho trovato in in Svizzera viene dalla Svizzera Studer comunque essendo anch'io fan di Reevox Studer Tate Machines per me avere uno Studer perfetto quindi uno Studer di 22 canali con otto gruppi un Master che ho modificato per essere compatibile anche in in situazioni ibride di mixaggio registrazione con Pro Tools quindi aggiungendo è automatizzato sì non è automatizzato completamente analogico ah quindi quando mixi in quanti vi mettete a a governare a governare i canali diciamo quattro mani 22 più o meno si fa quel che si può ed è quello che è anche importante informare le band o gli artisti perché una volta fatto un mix quando bisogna azzerare il banco il mix se ne va bisogna rifare tutto non hai il recall quindi devi rifare tutto quanto no il recall lo devo fare io a mano con disegni fotografie però sai c'è sempre un margine di errore perché a livello analogico anche se io faccio un recall o anche se lascio il banco come overnight magari la mattina arrivo non suona la stessa 100% e non sai dove andare a mettere mano senza le fotografie se la vi quindi sai le cose sono come si dice impermeable quindi anche anche qua la questione di lavorare in analogico quando quando si lavora 100% analogico bisogna anche fare conti con quello che sono le limitazioni dell'analogico vuol dire che siamo qua ora bisogna we need to commit e questa è la versione se vuoi il rullante più alto di un db I'm sorry bisogna bisogna andare a lavorare un pochettino in creativo con le queue magari sul master però quello a livello analogico questa è la realtà io ho voluto aggiungere manualmente al banco analogico dei direct output che vuol dire scusatemi il nerdismo vuol dire che ogni canale diventa compatibile con Pro Tools che è uno dei standard software di registrazione quindi anche a livello ibrido ci si può lavorare certo non si hanno limitazioni così forti sei contenta di essere in Inghilterra perché pensi che sei quello il centro o pensi che il centro della musica sia negli Stati Uniti tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti c'è molto scambio tanti tanti artisti statunitensi vengono qua a registrare a mixare tanti inglesi vanno là c'è questo scambio che io trovo molto mi ispira mi ispira molto è molto dinamica come situazione anche io tante volte mi trovo a lavorare in America o mi trovo a lavorare qui con gruppi americani o andiamo in paesi come la Grecia o dipende dipende ti capite di lavorare a dischi brutti cioè fai un disco e non ti piacciono le canzoni spero di no guarda io credo la risposta è no fino ad ora perché da quando neanche un pezzo brutto mi hai incontrato pezzo brutto cerco sempre di trovare beh cerco sempre di di renderlo un pezzo bello certo altrimenti vuol dire che ho fallito io come 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 io prima di prima di imbarcarmi in una produzione che alla fine è un è un processo molto lungo di mesi a volte anni prima c'è a livello di preproduzione c'è la discussione sul sulle canzoni sentire i provini e se durante una sessione vedo che una canzone un pezzo stia andando troppo lontano da quella che è quello che era la mia aspettativa la mano la alzo dico non è non è quello che io avevo immaginato per questo pezzo però se l'artista lo beh mi dicono no ma we love it e allora non ancora non è non non è non sono io che devo oppormi anzi sono io che devo cercare qualcosa di cui innamorarmi è aprire comunque ancora io lo lo voglio ribadire l'apertura mentale quella che deve essere sempre al centro di una sessione quello è lo strumento principale perché si vanno a imparare cose che non che sono importanti non bisogna rimanere fissati nelle proprie nella propria bolla perché altrimenti a non si impara niente b si fanno i dischi sempre uguali e sì non ho guarda non ci sono dischi su cui ho lavorato su cui ho lavorato e su cui ho detto oddio tornando indietro non lo farei perché perché no sarebbe una non dire un fallimento mio essere in quella posizione ma sarebbe una chiusura mentale mia a parte Bar Italia quali sono i prossimi dischi che hai già chiuso o come mix engineer oppure o come mixing engineer o come producer e mix e quali sono i lavori ai quali inizierai a lavorare se sono cose che si possono rivelare allora ho prodotti in uscita andiamo su quelli in uscita in uscita in uscita ci sarà english teacher che non so bellissimo bellissimo Bar Italia anche in Italia Bar Italia ci sarà Will Westerman che abbiamo registrato il disco di cui parlavo prima sulla Grecia registrato di notte registrato in questa stanza con Stella sulle batterie e il gruppo di Will su tutti gli altri strumenti Stella è Stella quella con la S greca? è Stella Stella di Warpaint ah è Stella ok Stella di Warpaint ok sì perfetto e altri in uscita Silvia Tarozzi ok italiana ok altri in uscita vediamo su cui lavorerò un disco io amo tantissimo Circuit the Yucks Ali 4 anch'io Dogma per me è stata una delle canzoni più belle degli ultimi almeno cinque anni fantastica lavoreremo insieme presto hai già lavorato con lei no? sì il disco precedente IO si chiama esatto sì lui è una delle artiste per me più fantastiche una voce una voce unica unica bellissima quando l'ho vista live perché ho mixato il disco e poi ho avuto la fortuna di vederla live al Barbican e mi ha spiazzato è stata proprio bellissimo essere presenti ho visto ho visto live lei quasi in penombra luce di taglio dall'alto c'è una cosa molto particolare set essenziale pochissimi musicisti mi sembrava di aver visto una cosa una cosa simile almeno la scorsa estate mi ricordo di aver visto qualcosa di simile sì quindi sono molto non vedo l'ora di lavorare con lei presto bene bene sono molto molto contento io non so se tu hai voglia di ascoltare il pezzo dei Beatles se vuoi andare non so come ascoltiamocelo dai allora il pezzo sarà sicuramente uscito quindi fatemelo andare a recuperare vuoi che ti racconti la storia se non la sai la racconto guarda la racconto anche per i ragazzi in chat allora questo brano ha una lunga storia perché nel diciamo poco prima di morire John Lennon a casa quindi credo con il suo pianoforte bianco quello che per qualche tra l'altro bizzarro motivo dovrebbe essere a casa di Robbie Facchinetti dei Pooh perché credo che l'abbia comprato lui quel pianoforte comunque a casa registra questo demo dentro il suo appartamento al Dakota Building di New York e registra un demo con un registratore ovviamente un microfono panoramico niente di più e questo e questo demo viene messo su una cassetta anzi è già su una cassetta che recita per Paul c'è scritto to Paul e dopo la morte di John Lennon occorsa poi poco dopo Yoko Ono contatterà Paul McCartney dicendo c'è questo demo c'è questa canzone che lui ha scritto ha lasciato dedicata a te e tra l'altro now and then furono le ultime parole che John e Paul si scambiarono nella loro ultima conversazione John Lennon disse a Paul McCartney think about me every now and then ogni tanto pensami poi la canzone parla di altro ovviamente nel periodo della anthology quindi credo nel 1995 i tre membri sopravvissuti dei Beatles andarono a riregistrare tre canzoni tra queste anche now and then soltanto che il fruscio contenuto nel nastro e l'impossibilità ai tempi tecnologica di separare la voce dal pianoforte per avere due tracce singole cosa succedeva alzavano il volume per avere una voce migliore alzavano il volume cercavano di equalizzarlo in un certo modo però c'era sempre questo pianoforte che gli andava presso nelle frequenze e quindi non riuscivano a separare le due cose il tentativo di registrare questa canzone fallisce riescono a portare a casa le altre le altre due canzoni tra cui Free as a Bird e Peter Jackson dopo aver lavorato a Get Back dopo aver restaurato il suono di molte tracce separandole attraverso alcune tecnologie appunto di machine learning più che di intelligenza artificiale contatta Paul McCartney dicendo guarda che oggi con la tecnologia di cui io sono in possesso tu potresti rilavorare se ne avessi voglia su Now and Then Paul McCartney ne ha voglia chiama a ringossarsi si rimettono a lavorare su questa canzone riescono a separare le tracce quello che riescono a fare è meraviglioso perché si sente in questo piccolo mini documentario che è uscito ieri sera e che accompagna la release appunto di Now and Then potete vedere in questo splendido mini documentario perché se il regista è Peter Jackson sicuramente diventa più bello vedrete proprio al minuto 7.2 al mark 7.2 sentite la voce pulita di John Lennon uscire fuori ed è quasi sembra il parto di un qualcosa di meraviglioso hanno rimesso mano alla canzone la canzone non dovrebbe essere nella forma originaria c'è una solo di slide guitar di George Harrison non di George Harrison ma alla George Harrison il resto delle chitarre sono le chitarre originali quella solo alla George Harrison lo ha fatto Paul McCartney come tributo allo stesso George Harrison che poi nel 2001 era scomparso io direi di andarla ad ascoltare la produzione ci sono poi le orchestrazioni che sono fatte da Giles Martin che è il figlio invece di George Martin quindi lo storico produttore dei Beatles che tra l'altro tu conosci Marta mi sembra di aver capito e lui ha messo su queste orchestrazioni perché volevano anche che ci fosse una parte orchestrale il pezzo originario per me era già bellissimo la strofa di Lennon le strofe di Lennon sono meravigliose c'è una caratteristica di cui mi sono accorto l'accordo finale di almeno del demo è lo stesso di Caruso di Lucio Dalla questo è giusto per dirvi il tipo di accordo ma ci andiamo a sentire invece la versione uscita proprio qualche minuto fa Now and Then dei Beatles wow mamma mia mi ha mi ha mi ha colpito emotivamente mi ha colpito è chiaro che c'è un fattore mi commuove questo pezzo è chiaro che c'è un fattore inevitabile che si chiama Beatles che si chiama ultimo brano dei Beatles che si chiama il fatto che il 50% dei Beatles non ci siano più il fatto che chi è rimasto sia ormai ben sopra gli 80 e quindi siano gli ultimi possessori di quella magica scatola nera di quello che hanno visto con gli occhi di quello che hanno vissuto è chiaro che c'è John qua dentro preso e catturato dentro la vita privata di un di un'abitazione di una casa di un demo che non nasce neanche per essere un domani portato in studio e che non nasce non viene registrato con il pensiero che oggi nel 2023 così tanti anni dopo saremmo stati qui a poterlo ascoltare in più è il fatto che è una canzone estremamente insomma sombre è una canzone struggente è una canzone triste a quella pausa prima della chiusura della strofa che racchiude enfasi è tutto estremamente enfatizzato wow me lo aspettavo invece con più range dinamico da un punto di vista tecnico te lo dico almeno da quello che abbiamo sentito però l'abbiamo sentito anche da un ipad che tende a schiacciare già lui di suo Marta che cosa che cosa ne pensi io sono molto di parte quindi probabilmente il mio giudizio è un po' sbilanciato beh sei tutto quello che circonda la canzone è anche molto molto intenso molto moving commovente come hai detto tu non hai una canzone che possiamo prendere alla leggera anche per tutto quello che significa sendo l'ultima comunque la gravità che accompagna la canzone gli dà anche questa questa qualità di essere sombra come hai detto tu apprezzo tutto il lavoro che c'è dietro questa canzone tutte le persone coinvolte hanno degli standard professionali altissimi sono stati tutti gli stadi della realizzazione sono stati fatti con la massima cura sono sicura di questo ed è la la manifestazione di quello di cui parlavamo prima dell'intelligenza artificiale che alla fine dietro questa intelligenza artificiale c'è il lavoro di tantissime persone o comunque il lavoro di poche o di tantissime persone non lo so però il tanto lavoro quindi di intelligenza artificiale non so quanto ce ne sia dietro ma fondamentalmente è soltanto una tecnologia che ti aiuta a tirare fuori quanto di più umano ci sia quindi non c'è niente che sia artificiale non c'è niente che sia non umano in questa cosa qui è semplicemente che grazie a Dio ci hanno permesso di avere la voce di John Lennon lavorabile ed isolata per poterci lavorare uomini persone con il gusto con la loro sensibilità con il loro livello affettivo perché poi questo è un lavoro che viene completato da 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 McCartney quindi sai c'è anche c'è una domanda esistenziale all'inizio no che che apre quasi il documento il mini documentario Paul si chiede ma John sarebbe stato d'accordo nel farmi completare questa sua idea e lui dice assolutamente sì si risponde dice yeah ma assolutamente quindi non ha neanche questo gli toglie anche quell'impaccio etico di dire sto mettendo mano a un qualcosa che non era inteso per me tra l'altro è intesa per lui perché c'è scritto proprio sulla cassetta è una è una dedica assoluta ti piace come è arrangiata ti piace l'idea degli archi per esempio sì 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 gli archi per me gli danno molto ed è molto elegante come arrangiamento è molto ovviamente mette tutto l'arrangiamento porta le voci nel center stage le solleva e credo che ovviamente sia stato fatto a favore di questo perché hanno iniziato con 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 la voce è la voce quella che diciamo hanno su cui hanno lavorato di più per salvarla dall'oblio tecnologico della cassetta dei provini e si sente sì almeno io ovviamente da orecchio orecchio mio da produserlo si sente quanto la voce provenga da da un da un posto un pochettino diverso ma io lo trovo una che gli dona questo effetto una qualità che che la rende ancora più più affascinante e la tecnologia ha permesso ovviamente la tecnologia che dal ai giorni d'oggi è avanzata a livello pazzesco quindi adesso grazie a questa tecnologia riusciamo anche ad andare oltre quello che erano le limitazioni ai tempi di questo che poi è curioso perché il mondo della musica è uno dei più refrattari nei confronti dell'innovazione perché è il mondo per esempio degli audiofili che dicono soltanto vinile tutto analogico non ci deve essere il digitale è il mondo di quelli che non concepiscono la musica fatta con il computer eccetera quindi è veramente un mondo complicato eppure grazie se fossimo più aperti e tu ce ne hai dato un grande insegnamento anche raccontandoci con la tua testimonianza di artisti primariamente aperti no alla contaminazione non hai raccontato neanche una storia di artisti chiusi cioè non c'è stato un personaggio delle tue narrazioni di oggi che fosse che avesse un carattere chiuso no era restio no non voleva farsi contaminare no non voleva sperimentare l'arte è questa l'arte è sperimentazione ed è apertura altrimenti è semplicemente burocrazia e in questo caso è meraviglioso proprio capire quanto la tecnologia a servizio riesco a fare delle cose straordinarie leggevo un'intervista di Yngve Malmsteen che ringrazia Pro Tools perché Pro Tools gli ha dato ispirazione artistica perché una volta lui lavorava soltanto su Nastro e su Nastro aveva le chance limitate quindi se non gli entrava la cosa giusta se non gli se non riusciva a realizzarla a concretizzarla l'idea giusta doveva accontentarsi di quello che c'era nel momento in cui ha avuto Pro Tools a disposizione ha potuto fare quello che voleva cioè poteva tornarci sopra fino a che appunto non fosse contento di quello che stava lasciando come eredità perché la musica fondamentalmente è un'eredità umana scritta per tutti non con diciamo un numero limitato di persone che ne beneficeranno Marta io non so come come altro ringraziarti veramente è stato credo molto edificante più che per me che penso anche per i ragazzi perché un punto di vista differente non ti voglio fare domande sull'Italia ah ti dico soltanto una cosa questo forse potrebbe essere un aneddoto carino siccome gli archi che sono stati diretti da Giles Martin sono stati Giles Martin sono stati fatti senza dire loro che si trattava di un pezzo dei Beatles perché non potevano diffondere questa notizia quindi li hanno portati in studio convinti di lavorare a un pezzo di Paul McCartney questi signori da ieri sanno di aver messo gli archi sull'ultimo brano dei Beatles della storia questa mi sembra una storia abbastanza meravigliosa e meno male che è andata così spero di riuscire a intervistarti ancora e magari raccontarci mille successi ancora più grandi in futuro grazie mille grazie mille a te grazie grazie veramente di cuore il tuo lavoro è fantastico è essenziale spero che adesso molte più persone ne siano assolutamente consapevoli grazie e ringrazio il tuo management per aver reso possibile questa giornata straordinaria grazie mille Marta ciao ciao